esagerate esagerate adesso però va bene ragazzi va benissimo era una vita che non si vinceva una partita senza rischiare mai nulla anche se siamo riusciti a prendere quel gollettino malefico giusto per non perdere il vizio siamo riusciti a prenderlo lo stesso però dai grande prestazione del milan è vero con un cagliari abbastanza strano strano poi è vero che loro hanno si giocheranno poi il tutto per tutto contro il sassuolo settimana prossima ed effettivamente rischiare magari di 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 un infortunio piuttosto che un'espulsione una mocece giocare proprio per rischiare qualcosa per poi magari perderà lo stesso effettivamente qualche conto l'ha fatto il cagliari non mi è sembrato il cagliari solito che è vero che sta lottando per la retrocessione però insomma solitamente il cagliari è tosto non mi è sembrato soprattutto con un milan in primo tempo veramente senza senza i quattro titolari insomma un milan nuovo è riuscito comunque bene va benissimo ragazzi va bene prendiamo oggi sono contento riesco a passare un sabato sera felice sarebbe stata la ciliegina sulla torta senza prendere gol però va bene va bene i stessi dinamila belli siete ragazzi buonasera 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 tutti ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico nas nella casa del pane baluna allora ragazzi terza partita della 35esima giornata di campionato il napoli oggi pomeriggio ha perso in casa 2 a 0 col bologna perciò il milan doveva assolutissimamente vincere per per potersi eh aggiudicare quella supercoppa italiana da fare perché non c'è ancora la certezza del secondo posto però sicuro è eh quanto meno il terzo perché il bologna se la juve domani dovesse vincere eh rimarrebbe comunque è è a sette punti e non può più raggiungerci perciò con la juve che va in finale di coppa italia sostanzialmente noi è un secondo anche se non arriviamo secondo fa vabbè comunque ragazzi è andato troppo casino troppo casino sul finale va bene comunque ci aggiudichiamo la supercoppa parliamo di questa partita perché abbiamo risposto ai cugini eh cinque gol ha fatto l'ora anche noi ne abbiamo fatti cinque perciò eh eh c'ho voglia di scherzare ragazzi dai ragazzi dedichiamoci sti dieci minuti insieme vi rompo le balle prima di andare dai prima di uscire ragazzi poi dopo ci avete tutta la notte per divertirvi state sette otto dieci minuti mettete un like qua nella casa del pane a balloon chiacchieriamo insieme fatemi sapere la vostra prima di cominciare come al solito però vi invito ad iscrivervi al canale se siete felici milanisti come me e non iscrivetevi al canale attivate la campanella così non vi perdete mai nessun mio contenuto ogni qualvolta io lo pubblico siete sempre vivi sul pezzo vi arriva la notifica perciò attivate quella campanella e soprattutto ragazzi mettete il likeettino fatemi sapere anche la vostra nei commenti sapete che ci tengo molto seguitemi su instagram venite a trovarmi sul gruppo telegramar da quante quanta quanta roba vi do tutta gratis perciò andate nella descrizione di questo video che ci sono tutti i vari link allora ragazzi dai bella serata bella serata devo essere sincero ecco un clima un pochettino surreale no perché settimana scorsa sono andato a san siro e anche settimana scorsa c'è stato lo sciopero del tifo no però insomma dal vivo c'è qualche mugugni o qualcosina la sentivo cioè oggi da casa stasera da casa veramente era surreale c'è proprio si sentiva il cronista si sentiva quasi anche i giocatori parlare non si sentiva volare una mosca se non quando ci sono stati gol però durante la partita zero proprio mi è sembrato secondo me di più di quello di settimana scorsa visto sentito dal vivo detto questo al netto al di là del del clima surreale è stata una bella serata una bella serata dove il milan ha ritrovato la vittoria dopo un bel po nonostante ha fatto non so se il turnover o o che cosa lì ho sentito che ha messo in castigo qualcuno insomma vabbè nel primo tempo non c'erano i titolari c'era questa formazione con quattro quattro nuovi insomma c'era girù al suo posto però a sinistra pulisic perché a destra era stato messo cq eze in avanti e musa centrocampo sinceramente non mi ha fatto impazzire e o centrocampo non so se hanno messo tre quarti secondo me abbiamo giocato un 4 3 3 non è stato un 4 2 3 1 perciò musa era nei tre di centrocampo un po pasticcione musa devo essere sincero mi piace molto però a volte è un po pasticcione insomma vabbè al netto di questo abbiamo fatto una bella partita una bella partita 17 tiri 10 verso la porta 5 gol una traversa insomma il cagliari sostanzialmente io vedo qua 13 tiri totali del cagliari però sinceramente a parte il gol e la traversa mi pare sul 3 a 1 se non sbaglio da calcio d'angolo c'è stata una traversa non mi ricordo vedo sti 7 tiri in porta però sinceramente forse erano passaggi non mi ricordo grandi parate di sportiello almeno ricordatemelo voi magari nei commenti se però adesso così a memoria a parte il gol e la traversa che non rientra nei tiri in porta ma rientra nei tiri totali io sti 7 tiri in porta non me li ricordo ma detto questo insomma è stato un bel mila poi nel secondo tempo ha dilagato sono entrati i carichi da 90 insomma leao ha fatto il leao fin troppo ecco leao e niente diciamo sempre le stesse cose leao è un fuoriclasse ha dei colpi pazzeschi nessuno lo mette in dubbio lui deve cambiare atteggiamento perché anche stasera nonostante ha fatto un gran bel gol poi aveva la possibilità per fare di fare una doppietta e gli ha voluto fare la giocata il pallonetto che non ci sta mai quel pallonetto lì lì ti devi mangiare la porta il gol non te lo regala nessuno fare il bel gol a pallonetto sul 4 a 1 non serve a niente che poi oltretutto non l'hai neanche fatto mangiati la porta fai gol inizia a entrare nel circuito delle reti segnate tante volte il gol anche se semplice no soprattutto se semplice lo devi fare semplice se c'è da 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 metterla nell'angolino non provare il pallonetto cioè io questo che che non capisco che il perché non capisce leao perché veramente lui ha una fisicità ha dei colpi che sono veramente pazzeschi se lui avesse anche la mentalità giusta da campione ma veramente farebbe la differenza ogni partita e non ogni tanto ogni partita è quello che gli manca leao speriamo di non stare qua tra dieci anni a dire sempre le stesse cose che nel frattempo con l'esperienza magari inizierà anche ad avere quella appunto quella cattiveria per fare gol speriamo perché veramente un giocatore così è un peccato che che sia così discontinuo ecco e quello dico perché ragazzi i colpi che ci ha leao sono sono fenomenali pulisi che fa un gran bel gol gollasso anche di reinders secondo me non ci credeva neanche lui a un certo punto è andata ma non ci credeva sicuramente tira sempre delle ciabattate quando l'ho visto caricare ero bello tranquillo di un'altra ciabattata invece l'ha messa nell'angolino secondo me non ci credeva neanche lui al gol va bene ragazzi scherciamoci su è una bella partita comunque quando si vince sempre bello anche perché insomma chiudere la stagione al secondo posto e comunque in bellezza senza tanti musi sarebbe giusto no perché ci sta adesso il cambiare pioli non è una bocciatura ma è semplicemente come si dice il percorso di un allenatore non difficilmente si rimane tanti tanti anni in una società sono pochi quelli che lo hanno fatto soprattutto se poi non se hai dalla tua parte le vittorie tu ogni anno vinci vabbè e chi ti manda via nessuno può farlo perché porti a caldo ma anche ma se non vinci sempre in una grande squadra difficilmente duri a lungo e pioli e cinque anni che qua ci ha fatto molto bene devo essere al netto degli errori che li faccio e li facciamo tutti quanti siamo umani però ragazzi ci ha regalato uno scodetto impensabile da quando c'è lui il milan va sempre il champions league a parte il primo anno che l'aveva preso in corso e comunque l'ha portato se non sbaglio all'europa league perciò insomma non gli si può dire nulla la squadra è stata costruita non da poter distruggere i campionati perciò per quello che ha fatto pioli cioè un primo posto due secondi posti e un quarto barra quinto l'anno scorso insomma quinti però poi alla fine ci hanno messo i quarti per l'esclusione della juventus insomma a livello di risultati non gli si può dire nulla è giusto lasciarci magari è giusto lasciarci e soprattutto magari lasciarci in armonia ecco perciò è meglio finire la stagione con qualche gol in più qualche sorriso in più stringerci la mano e ricominciare dall'anno prossimo speriamo dai ragazzi speriamo in bene anche perché questo campionato ormai per il milan l'unica cosa che mancava era appunto la certezza della supercoppa italiana oggi è arrivata manca solo la certezza del del secondo posto se vogliamo vedere però magari ce lo regala domani la juve meno male che c'è la juve che ogni tanto qualche regalino ce lo fa anno scorso ci ha regalato un quarto posto magari ci regala il secondo questa non vincendo la salernitana va bene dai ragazzuoli vi auguro una buona serata a tutti quanti mi raccomando fate bravi non fate i coglioni in giro sabato sera divertitevi ma senza fare i coglioncelli tornate a casa non troppo tardi ci vediamo domani per il resto della giornata un abbraccione di cuore un bel like al video come dico sempre io belli siete